Si sente in sottofondo il vociferare della gente perché il convento è in festa, ma abbiamo un angolino che può veramente essere l'angolino che cercavi per fare serata, per fare festa, ma anche per avere il posto giusto con la persona giusta. Andiamo a vederlo. Eccolo, eccolo il nostro posto magico, il nostro angolo dove si può arrivare, sedersi e godersi un po' di musica e godersi veramente un'atmosfera da panico. Ci si può sedere, in alcune serate c'è il pianoforte, in altre serate c'è la voce del nostro cantante. Il mercoledì e il giovedì sera l'ambiente è Convento Paradise, è Convento Paradise estivo perché in questo ambiente si può mangiare alla carta, menù che cambiano di settimana in settimana, vini selezionati e la possibilità di poter ascoltare veramente dell'ottima musica in un ambiente freschissimo e veramente stupendo. Non dobbiamo dimenticarci che Convento non è solamente locale di festa, ma è anche locale dove la ristorazione può essere davvero la ristorazione importante per chi ama questo. Ma poi Convento è anche relax perché noi ci portiamo in zone dove c'è la possibilità di dire Ah che bello, finalmente io mi siedo e non se ne può più. Ah che spettacolo, io ho l'uomo che voglio conquistare, ho la mia donna, ho i miei bambini che voglio far divertire E qui sulla nostra amaca possiamo veramente veramente, e poi non è niente questo, questi che spettacolo, andiamo a vedere questi, che spettacolo questi, mamma mia, non ho mai, ma che spettacolo questa cosa, dai 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 dai, ecco, ecco. Le torce perché la fiamma, l'atmosfera, la bellezza, sentite i grilli che cantano, oh, i fiori, i fiori che profumano, guarda che spettacolo, guarda i fiori, i gerani, oh, e poi ancora fiori, 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 fiori. Convento paradise, non è un giardino sempre aperto questo, è un giardino aperto solo per chi vuole veramente trovare l'atmosfera giusta, perciò la festa venerdì village, sabato dinner and dance, domenica italiana le piavore, ma il mercoledì e il giovedì sera il convento è convento paradise. E davvero questo è il modo migliore per dire paradise. Che spettacolo! Che spettacolo!